Ragazzi, Olimpia Milano, questo Olimpia Milano è davvero troppo, troppo forte. E' 91-82 l'epilogo al Mediolanum Forum di Assago nella gara 2 fra Olimpia Milano e Dinamo Sassari, così come la Virtus ieri. Anche l'Olimpia si porta nel 2-0 nella sua serie e così come la Virtus Bologna. Alla prossima partita, a gara 3, che si giocherà in Sardegna al Palazzo Radimini, l'Olimpia la può chiudere, purtroppo. Amici e amici appassionati di grande pallacanestro italiana, buon poveriggio, anzi buonasera e benvenuti sui rinosposiali. Ragazzi, come vedete nello schermo parliamo di Olimpia Milano contro Banco e Sardegna Sassari. Dopo una gara 1 davvero facile, 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 terminata con un punteggio roboante per l'Olimpia Milano, si trattava in quel caso di 88-71 partita, mai stata effettivamente in discussione. Possiamo vedere quest'oggi davvero una grandissima partita per quanto riguarda il basket italiano, perché peccato che nessuno guardi questo basket, perché oggi è davvero stata una partita bellissima. Decisa da chi? Decisa da due campioni, da due grandissimi campioni, uno dei due non ancora al meglio. Sergio Rodriguez, ma anche Niccolò Melli con i suoi rimbalzi in attacco, ma soprattutto è Ciaccio Rodriguez con la sua tripla. Andiamo ad analizzare la partita, partita che è finita a 91-82, qui devo un attimo refresciare perché altrimenti non riusciamo a trovare nulla. Allora, iniziamo subito dalla squadra che ha vinto, vale a dire la squadra di Ettore Messina, la Dinamo Sassari. La Dinamo Sassari, scusate, l'Olimpia Milano. MVP, come ha detto il Ciaccio, 18 punti per lui, 4 su 5 da 2, 3 su 4 da 3, ma soprattutto la forza dell'Olimpia è stata quella di, dalla seconda, dalla prima metà del terzo quarto in poi, di cercare di imporre la propria idea di gioco rispetto a quella della Dinamo. una Dinamo che sicuramente predilige molto il correre e l'andare in transizione, percentuali sull'arco dei tre punti, davvero ribilanti nel primo tempo per quanto riguarda l'Olimpia, percentuali che poi sono migliorate e hanno portato a questa vittoria. Soprattutto col Ciaccio che ha fatto veramente una prestazione incredibile nell'ultimo quarto, nel Clacce. Con la Dinamo che purtroppo mentalmente non è rimasta ferma sulle sue idee, sui suoi giochi, è andata completamente in blackout. Grazie a che cosa? Grazie alla chiusura ermetica difensiva data da giocatori difensivamente importanti come Skylines, che ha sofferto tantissimo quest'odio di Mirobilan e Niccolò Melli. Per il resto, altri giocatori dal quale sono rimasto abbastanza stranito è stato Bentil, perché Bentil non so, forse sta male, non lo so, non ha giocato tantissimo, ha giocato, nel secondo tempo non ha giocato praticamente mai. Per il resto, Shevon Shields, chapeau, sempre pronto in fase difensiva, recuperi eccetera, veramente bene bene Shevon Shields, ma soprattutto Devon Hall. Devon Hall è un giocatore, secondo me, molto particolare, mi piace da moire Devon Hall, che secondo me non sta facendo dei playoff eccellenti, però quest'oggi è stato il secondo top scorer dell'Olimpia dopo Rodriguez, quindi veramente buona prestazione da parte di Devon Hall, ma soprattutto ve l'ho detto, lo switch mentale per vincere questa partita l'Olimpia l'ha fatto in difesa più che in attacco. Passiamo, oltre che chiaramente in attacco, ha sistemato tutti i problemi che aveva dall'arco del 675. Passiamo a Sassari, do una prima notizia, il parallelo Serra di Migni è ufficialmente sold out per la partita di mercoledì, gara 3, Sassari deve vincere per allungare la serie, Milano deve vincere per chiuderla la serie invece. Miglior giocatore di Sassari, mi è piaciuto molto Emanthas Bendius, perché ha fatto il suo, ha fatto il suo, un Emanthas Bendius perché io vorrei sempre così, vorrei sempre così, ha fatto un discreto 50% da trebuti, niente di eccezionale, 29 di valutazione, e lui veramente nel ruolo di 4 secondo me è stato il migliore della partita, ed è lì che la Dinamo, grazie soprattutto anche ai canessi di David Logan, David Logan sontuoso per buone parte della partita, mentre in alcune parti di partita veramente era orrendo letteralmente. Per il resto, Miro Bilan, Miro Bilan ha fatto una doppia doppia clamorosa, ha fatto 17 punti e 13 rimbalzi, veramente un professore della pallacanestro per quanto riguarda i lunghi, sicuramente il mio lungo del campionato e secondo me la Dinamo deve cercare di insistere ancora di più su Bilan, perché Bilan giustamente, vista l'evidente altezza rispetto a Key Lines, era sempre soggetto di raddoppio da parte di un altro giocatore di Milano. Secondo me non è così tanto difficile andare a scardinare il sistema di investimento di Milano, basterebbe semplicemente dare sempre più la palla a Bilan come veniva fatto quando c'era Pozzecco, poi girarla fuori perché Bilan è anche un ottimo passatore, andare a far collassare la difesa perché in quel caso ci sarebbe un 4 contro 3 sul perimetro e andare così a cercare appunto di... ma sarebbe comunque uno scommettere sulle percentuali dentro l'arco della Dinamo, che comunque quest'oggi ha fatto il tiro a piccione perché siamo al 36% da 3 punti e al 50% da 2. Ho visto come al solito molte, molte conclusioni non tanto forzate quanto prese troppo velocemente. C'era molta fretta in questa Dinamo, Barnell soprattutto e Robinson secondo me spariti completamente, fra quelli di cui mi aspetto tanto veramente spariti. Un Barnell che sembra il lontano parente del Barnell della serie contro Brescia, certo gli avversari sono quelli che hanno concluso in terza posizione in stagione regolare in Eurolega, non è sicuramente la Germania di Brescia che fra l'altro ha avuto anche la sfiga di avere infortunati due dei più grandi giocatori che ha, vale a dire Della Vala è il migliore e anche Kenny Gabriel, vedremo un po'. Sbandiop ha fatto forse la giocata più bella della partita, una stoppata davvero fantastica, però purtroppo cerca di lottare, di lottarsene tutto, però non riesce effettivamente a concretizzare. Mio personalissimo parere su questa serie, secondo me, allora, anzitutto l'hanno vinta i talenti, perché è inutile starlo a dire, ma i talenti l'hanno vinta perché quando ti spara un tiro da tre punti di quel tipo il Ciacio Rodriguez da 9 metri, dove vuoi andare? Io spero che rimanga Milano perché secondo me con un altro anno in più di maturità questa squadra può ritornare, chiaramente in base a come verrà fatto il mercato, alle FNR4 di Eurolega del prossimo anno e quindi io spero resti per l'Olimpia. Per quanto riguarda noi, speriamo di portare la sfida a gara 4, sarebbe fondamentale. Io ho detto da questa serie, non mi aspetto tantissimo, io mi aspetto ad arrivare a gara 4, spero di arrivare a gara 4. Parliamo anche un attimino della Virtus e poi stacchiamo. Per quanto riguarda la Virtus, ha battuto prima, diciamo, in gara 1, ha battuto Tortona davvero all'ultimo. Secondo me Tortona si meritava quella partita. E a gara 2 pure, a gara 2 pure, perché comunque Tortona per un bel po' di partita ha giocato, poi è andata chiaramente, è collassata. Quindi peccato, peccato davvero, perché quando stai 2-0 sotto nella serie è molto difficile che tu le copri, ma molto difficile. Sarebbe stato importante che sia Sassari che Tortona ne vincessero almeno una. Io credo che la Virtus vada a fare uno sweep a Casalermo Ferrato, mentre invece per la Dinamo, anche per l'ambiente Dinamo, credo che gara 3 ce la potremo portare a casa. Spero di non sbagliarmi, lo spero proprio. Detto questo, ragazzi, siamo stati lunghi anche oggi, 8 minuti di video, chapeau. E niente, ragazzi, vedete un po' poi, vincerà Milano gara 3 o vincerà la Dinamo? Purtroppo domani sera non ci sono, quindi credo di non esserci almeno. Quindi il post partita della Dinamo, della Virtus, mi sa che salta. Ci vedremo in teoria mercoledì sera con la partita del Palasera di Migni, sperando che non sia l'ultimo post partita della stagione della Dinamo. Detto questo, vi saluto e vi ringrazio e noi ci vediamo ad un prossimo appuntamento con le serie delle Serie A su Molino Sport Channel. Ciao belli!